Che cosa pensa della guerra in Ucraina? In particolare non penso niente di questa guerra. Io penso che tutte le guerre siano una disgrazia e una tragedia enormi. Una cosa che mi fa molto male. Le dico solo una cosa. Tra i sei partner del nostro grande gruppo, ben tre persone sono di origine ucraina e per loro è anche una grande tragedia personale. Lei se lo immaginava che si arrivasse a un conflitto, a uno scontro così, all'invasione dell'Ucraina? Assolutamente no. Pensavo fosse impossibile che succedesse una cosa del genere. Dico la verità, anche gli uomini d'affari che oggi sono finiti sotto sanzione, nessuno di loro sapeva di questa decisione. Anche se vengono accusati di essere d'accordo con lui. C'è un Putin prima e un Putin dopo? Non commento. Le posso dire che io e i miei partner abbiamo la polisi di non fare politica o commentare la politica. Queste informazioni potrebbero nuocere, non dico a me, ma a molte persone della dirigenza e ai nostri dipendenti, che sono oltre 600.000 persone in tutta la Russia. Solamente nella banca lavorano 30.000 impiegati. La Russia in questo momento si trova isolata. Il rublo in caduta libera, le borse sono bloccate e le grandi aziende, anche americane e internazionali, stanno venendo via dalla Russia. Che cosa sta accadendo? La situazione è veramente molto difficile. Le posso dire che la devastazione che si ebbe nel 1989, 1990 e 1991 non potrà ripetersi, perché in questi anni è sorta l'imprenditoria privata. Sarà dura, ma non a quei livelli. E tutto questo potrebbe creare un problema a Putin? Cioè questa situazione economica potrebbe fargli cambiare idea in qualche modo? Non lo so. E Zelensky l'ha mai incontrato? No. Che idea si è fatto di lui? Si è rivelato un ragazzo forte e abbastanza coraggioso. Beh, sta difendendo il suo paese. Non lo so. Si è rivelato molto determinato. Come finirà questa storia, secondo lei? Giro la domanda a voi e credo che nessuno possa saperlo. Non ne ho la più remota idea. Non me lo immagino proprio. In ogni caso sarà un trauma anche psicologico, molto forte, che resterà da entrambi i lati del confine. Le posso chiedere una cosa personale? Lei ha mai avuto paura? Certo. Mi scusi, ma se la mia famiglia è morta nei campi di concentramento, come poteva non avere questo sentimento? E gli altri sono morti nell'olocausto. Un'altra cosa tremenda. Io ho avuto entrambi i nonni uccisi durante le repressioni staliniane. Le loro vedove, le mie nonne, hanno fatto rispettivamente 5 e 20 anni di gulag. Dopo questo mia nonna ha vissuto con me in famiglia e mi ha cresciuto. Si chiamava Shina Bela. Mi ha sempre detto di stare attento perché loro, il Kegebe, prima o poi mi sarebbero venuti a prendere. E quindi non ero pronto al fatto che non arrivasse il Kegebe, ma qualcuno che doveva rappresentare la libertà. E' molto interessante quello che lei sta raccontandoci dell'episodio della nonna, perché se la nonna aveva paura del Kegebe, oggi tutti hanno paura di Putin però. Non commento.